Ho finito secondo, abbiamo cercato di cambiare qualcosa sulla moto per essere più concreti in gara 2 le condizioni erano molto difficili, faceva molto caldo e le gomme soffrivano tanto quindi siamo partiti tutti molto calmi, quando a metà gara ho deciso di spingere per tornare davanti ho commesso un piccolo errore al tornantino per passare a RIA e secondo me avrei potuto girare però avevo davanti a me il van e era troppo rischioso, ho preferito cercare un varco, lasciare i freni e andare dritto vedermela da solo, poi sono rientrato molto indietro, stavo recuperando ma purtroppo la bandiera rossa mi ha tolto un terzo di gara dove avrei potuto comunque recuperare ancora qualche posizione, comunque dobbiamo lavorare non siamo ancora al 100% del nostro pacchetto, del nostro potenziale secondo me da Aragon avremo una gara diversa però anche il recupero che stavi facendo